Sando nel museo aerospaziale, dobbiamo stanarli Ostini a guardia di una posizione vicina I blacktask hanno già preso il controllo di questo posto Non sarà facile cacciarli via Chi è a dentro? Oh, 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 oh oh Ne ho uno qui Grave traura rilevato Cazzo, bisogna darvi Qui è stato un asciutto di traevhi Grazie. 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 Agente deceduto. Merda. Laронazione. Ho chiesto assistenza. Ho chiesto assistenza. Ho cercato. Vengo da te. Arrivano addoni. mi stanno curando mi hanno bloccato qui luogo concentrato ghiglia di sicurezza non è morto ricompro io Voi bastardi! Piazza! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Controlla tutti i terminali e i portatili Ci servono tutte le informazioni possibili sui Black Task per fronteggiarli al meglio Grazie a tutti 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 Installazione Backdoor Spero che questi codici nascondano roba di valore Zitta e crema Arrosto come un cotechino State giù Lancia un jammer Setas 5-100 Connessione terminata da remoto Versaglio in vista Merda Hanno isolato il terminale Grazie a tutti Grazie a tutti Beccati questo Segni sitali critici Grazie a tutti 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 Grazie a tutti